Ciao a tutti, sono venuto ad Oberheggen per provare il nuovo Scott Slight 93, ovvero lo sci di larghezza intermedia tra quelli della linea Slight, formata da materiali all condition con una forte vocazione a lasciate in pista. Apprezzo subito la leggerezza, infatti l'abbondante uso di carbonio riesce a conferire rigidità alla struttura senza pesantirla troppo. Visto che sono ad Oberheggen e le piste sono sempre al top, per scaldarmi faccio qualche giro su neve battuta. Lo Slight 93 si dimostra facile da gestire in tutte e tre gli archi di curva. Ma siccome la casa ci consiglia un uso attuamente diviso tra pista e easy freeride, ora provo ad avventurarmi un po' in neve fresca. Trovo che anche fuori pista lo Slight sia uno sci molto polivalente, che dà però il meglio di sé sulla crosta o comunque su nevi più compatte, situazione in cui la struttura rigida costituisce un buon vantaggio. Questo Scott è un ottimo sci anche per gestire al meglio le condizioni che si possono trovare a fine giornata. Quando in pista inizia a comparire qualche gobba e la neve inizia a trasformare, lo Slight 93 aiuta a tornare a casa sani e salvi. Non vi resta che provarlo!